buongiorno e oggi giocheremo minecraft minecraft ma con tutto ok perché siamo sotto acqua? perché? 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 ecco questi cibi di toilet mi dà fastidio andiamo qua ma questo è un'isola non è niente ancora col tema adesso vi faccio vedere alcuni mostri i gatti di rainbow friends dopo alcuni fatti di ho trovato il bambano faccio questo, questo, questo ok io ho trovato ok, questo è bello, orange, green red ok, così e ciao 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 Grazie.